Ho trovato il regalo perfetto per tua moglie. Puoi comprare una stella e darle il suo nome. Cercavo qualcosa di un po' più... strabiliante. La vendono una costellazione? Non lo so. Puoi comprare un buco nero. Non credo che un buco nero sia il messaggio giusto, visto come stanno le cose. La dottoressa Tobin è la miglior terapeuta di coppia in città. Anche i learner me l'hanno raccomandata. Infatti sono divorziati da un anno. È vero, ma l'unica cosa su cui sono d'accordo è quanto gli piace la dottoressa Tobin. Ma tu mi ami ancora un po'? Non so se posso amarti un po'. Mi dispiace. Devo andare. Ecco il mio cliente. Che ci fanno? Che fine hanno fatto, Morgan? Quell'uomo è ancora a piede libero. Vi consiglio il programma di trasferimento dei testimoni. Cosa? Non posso impegnarmi a passare il resto della mia vita con mio marito. So esattamente cosa provo. Benvenuti in Wyoming. È un onore proteggervi. Spero che sarete a vostro agio qui con noi. Ma chi è Calamity J? Sai andare a cavallo? Ho preso qualche lezione da piccolo. Non l'ho mai saputo. Sì, beh, non ti dico tutto, per cui... Sì, questo lo sapevo. Siamo qui e non possiamo farci assolutamente niente. Ci andrebbe di andare a cena fuori stasera? Ci siamo già andati la settimana scorsa. E direi che era andata bene fino all'omicidio. Pago io. Ero così innamorata di te. Invece ora desidero solo vederti soffrire atrocemente. Palle! Dio del cielo! Che dolore! Paul, non ti muovere. Come? C'è un orso dietro di te. Santo cielo! Non correre, non correre! No, 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 no! Tu non mi ascolti mai! È esattamente questo che... Ogni volta che c'è... Ti pare il momento? Parla con voce dolce e monotona. Mia moglie è della protezione animale. Volevo iscrivermi anch'io e... Scappa, scappa! Che fila hanno fatto i Morgan? Prendila come una vacanza, una pausa nella tua vita nevrastenica. Non sono sul mio cavallo!